Ultimi giorni di maggio, ultimi giorni di messa a punto per la zona mare pesarese in vista dell'estate. Fra arredi, asfalti e novità, questa estate avrà una sorta di start, di partenza proprio con la festa della Repubblica. Infatti dal 2 giugno tornerà in vigore la pedonalizzazione di Viale Trieste, tornerà per il terzo anno consecutivo e sarà nel tratto compreso fra Viale Zare e Vianinchi e Viale Marconi e Viale Pola e durerà fino al 4 settembre, come ci spiega l'assessore del Comune di Pesaro, Riccardo Pozzi. Era stata una sperimentazione, se vogliamo, lanciata durante gli anni di Covid, durante il primo anno di Covid, per cercare di sfruttare maggiormente gli spazi aperti e quindi vivere di più all'aria aperta con degli spazi nuovi. È una sperimentazione che ha funzionato bene, che i cittadini hanno apprezzato, i turisti hanno apprezzato e quindi siamo al terzo anno della riproposizione di questa soluzione e di questa formula, che vedrà ancora una volta un leggero restyling di quello che è l'arredo urbano delle due isole pedonali. Abbiamo deciso di puntare molto sul green, sul verde, per dare la possibilità a chi passezza, al turista piuttosto che al pesarese, di dare la sensazione di immerdersi in un corridoio verde. Quindi giocheremo molto sul tema dell'ambiente, ma anche con un arredo urbano più semplice, più elegante, che tende al total white, quindi un leggero restyling rispetto a un esperimento che ha funzionato bene e che andiamo a riproporre. In un viale che vedrà anche nei prossimi giorni, nel lato in fondo Viale Trieste, in prossima età della zona porta, andremo a inaugurare un nuovo parcheggio di 200 posti auto, che sarà funzionale anche proprio a sostenere questa pedonalizzazione del Viale Trieste. Villa Marina che cambia non solo per il completamento del parcheggio, ma anche per il recupero dell'area sportiva dismessa, che diventerà una zona Luna Park, convogliando in quest'area giostre e attrazioni sparse per la città. E poi c'è la palla di Pomodoro, che da un lato torna all'antico, infatti ufficiale, che in quest'area si tornerà a ballare dopo le tante limitazioni da Covid-19 che hanno caratterizzato gli ultimi due anni. E' anche una zona che si rifà il look perché sono in corso da settimane i lavori di sistemazione delle balaustre che affacciano sul lungomare nella zona compresa tra palla di Pomodoro e Moletto. Siamo in linea con il cronoprogramma di un intervento importante di 150.000 euro, finanziato interamente da un contributo ministeriale, un contributo ministeriale che è giunto nel bilancio del Comune di Pesaro a marzo. E questo ci ha consentito di avviare subito l'iter per la giudicazione dei lavori, l'individuazione della ditta e partire con un intervento che di fatto rappresenta un cantiere itinerante. Quindi 20 balaustre alla volta, all'incirca, vengono portate nello stabilimento, trattate con questi polimeri che di fatto vanno a creare una pellicola trasparente che li proteggerà dalla ruggine e che quindi prevederà poi la conclusione definitiva dell'intervento intorno alla seconda metà di giugno. Anche se arriveremo nelle prossime settimane ad aver concluso un 80% dell'intervento e quindi avere anche dato un impatto visivo diverso, è un lavoro importante. Infine, Piazzale d'Annunzio, un'area da ravvivare sulla quale scommettono sia il Comune che gli albergatori, sarà riqualificata con un nuovo allestimento che attualmente è in corso per uno spazio pensato per iniziative dedicate ai bambini ma anche per creare un punto di informazione turistica. Piazzale d'Annunzio sarà oggetto di un intervento di restyling dell'area d'Urbano, giocheremo sul tema di terra di piloti e motori e quindi ci sarà anche un'importante novità che annuncieremo nei prossimi giorni.